cari amici ancora una volta un carissimo saluto a voi tutti vi state chiedendo soprattutto le donne magari è qual è uno dei migliori oli essenziali presenti sul mercato che cura in particolar modo la pelle soprattutto quella delle donne ma se volete anche quella di noi uomini e lui olio essenziale di geranio profumo inebriante profumo particolarmente floreale profumo che indicato ad esempio in quelle abitazioni in tutte le abitazioni magari dove è presente un un diffusore che eroga vapore oppure un classico brucia essenza per intenderci quello con la candelina comunque al di là di queste caratteristiche questo bellissimo olio essenziale favorisce la cicatrizzazione delle ferite delle bruciature adatto poi nelle depressioni psoriasi herpes acne nevralgia tensioni nervose eccetera eccetera quindi sul sul geranio possiamo dire veramente tante cose però quello che vi consiglio è venire da noi noi ve lo facciamo anche provare ve lo facciamo sentire sui polpastrelli perché la sensazione di un olio essenziale direttamente sui polpastrelli è determinante poi chiaramente la profumazione potete trovarlo da noi quindi venite perché ci farà estremamente piacere parlare con voi presentarvelo direttamente così come tanti altri oli essenziali tra l'altro noi siamo sempre lì via de vito francesco numero 6 a bari